Quanti anni avete? 12 11-12 anni? 11 Va bene, voi usate Facebook? Sì, certe volte proprio Ma da quant'è che lo usate? Da quando faccio quarta elementare Ma che cosa è che vi piace di Facebook? Che possiamo contattare con altri amici Non si può telefonare Però lì costa di meno Supponiamo se costasse di meno il telefono Si sceglierebbe il telefono o Facebook? Il telefono Sentite, mandate anche degli SMS Gli usati cellulari? Sì Voi avete tutti i cellulari? Sì Da che età si ha il cellulare? Io l'ho avuto adesso Ho fatto la comunione Anche io da comunione Insomma intorno ai 10 anni diciamoci tutti Prima superiore non me lo regala Ma mamma non te lo conta Sono troppo piccole e non serve il cellulare per i piccoli Voi quanti anni avete? Io 14 e mezzo 14 Voi usate Facebook? Sì Da quanti anni usi Facebook? Ma dall'anno scorso perché non riuscivo a registrarmi quindi poi non mi portava molto Puoi chattare con gli amici, poi ci sono un sacco di link Perché non telefoni? Perché spendo soldi Per quello, ma diciamo la verità, solo per quello ci sono degli altri motivi? C'è qualcosa di più interessante che non solo telefonare? Ma non so, poi ci sono anche dei giochi che puoi fare, li puoi condividere con gli amici, ci sono anche dei link belli, puoi creare le tue foto Sì, stai a guardare le foto degli altri, i profili, dirò non chatto mai Io chatto solo con le persone che mi interessano, se no giro un po' per i profili, guardo le foto, cerco di capire un po' chi sono Perché alcune persone di cui ho l'amicizia non le conosco e cerco di conoscere tramite le loro foto Ma è importante avere tanti amici, c'è un po' una gara, chi ha più amici, poi ci si ruba gli amici No, per me no, ma poi, cioè, io gli amici che ho su Facebook sono più quelli che conosco che quelli no Perché comunque se chatto con loro, con quelli che non conosco, non è che li posso scrivere come stai, cosa... Si fanno anche le conoscenze Sì, 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 comunque sì La conoscenza può andare al di fuori del computer, insomma? Ma non sembra, perché alcune a volte non stanno neanche vicino a te, quindi, cioè, io ho un'amica di Facebook che sta a Napoli, quindi... Non l'hai mai visto? Che però è proprio una tua amica Sì, sì